Noi siamo qui con il nostro coro di cantanti e abbiamo fatto diverse prove nel corso della giornata. Abbiamo preparato un repertorio di cinque pezzi che includono momenti di improvvisazione molto interessanti. Proponiamo musica folk, jazz e anche classica, in particolare la Jesus Bleibet Mein Freude di Johann Sebastian Bach. E concludiamo con un open singing, il che vuol dire che cantiamo tre splendidi brani, tra cui What a Wonderful World, coinvolgendo nell'esibizione tutta la platea di ascoltatori. Sì, in effetti per noi è importante essere in una sala così grande, tale da poter contenere il nostro coro da ben 150 cantanti. E certamente sono molto contento di essere qui in Italia e in particolare questa visita a Teramo è stata gioiosa. Sì, in effetti per noi è importante essere qui in Italia e in particolare questa visita a Teramo è stata giocare di un'esibito di un'esibito di un'esibito di un'esibito di un'esibito di un'esibito.